Io mi chiamo Carlo Boccazzi Varotto, sono venuto qui a Bit of History per parlare di Hackability. Hackability è un progetto che coordino e che abbiamo inventato oramai alcuni anni fa con un gruppo di amici. È un hackathon che permette a persone con disabilità, maker, designer, ingegneri, insomma chi ne ha voglia, di lavorare assieme per realizzare oggetti che non esistono o oggetti che costano meno o oggetti che funzionano meglio. Oggi questo è possibile grazie alle macchine di prototipizzazione leggera, alle schede open source, ad Arduino, Raspberry Pi, cioè realizzare qualcosa fortemente pensato sui bisogni delle persone. Noi abbiamo provato a trasformare tutto questo in una metodologia, in una tecnica che è esportabile. Ne abbiamo già realizzati 5 dal 2015 ad oggi, li presentiamo in tutte le occasioni perché vorremmo che ne venissero realizzati molti di più. Hackability è un format open source, chiunque lo può realizzare, noi gli diciamo come. Tra pochi giorni uscirà un piccolo manuale e speriamo che si moltiplichino queste collaborazioni tra persone che hanno dei bisogni, che esprimono dei bisogni e tutti coloro che questi bisogni possono dare una risposta. Grazie a tutti.